Musica Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. È da poco terminata la terza prova, riviviamola con la cronaca di Claudio Giamini. Chiocciola vicino al Verrocchino, entra in questo istante, la partenza su tutti della Contrada della Torre, poi l'Istrice, il Drago e la Pantera dall'esterno, insieme anche alla Lupa, con la Pantera che prende la testa della corsa e va a girare la curva di San Mantino. Pantera, Torre, Lupa, Leocorno, Istrice, Valdimontone, Drago, Chiocciola, Civetta e Bruco a chiudere. Pantera alla curva del Casato, poi la Lupa, la Torre, il Leocorno, l'Istrice e il Montone e le altre Contrade. La Lupa adesso supera dall'esterno la Contrada della Pantera, ha rallentato notevolmente l'Istrice. In seconda posizione è il Leocorno, curva di San Martino affrontata a buona andatura dalla Contrada della Lupa con Bellocchio e Reo Confesso e dalla Contrada del Leocorno con Tempesta e Volpino. Vanno a girare la curva del Casato, lo fanno bene entrambi, la Lupa poi rallenta e il Leocorno dall'interno che prende la testa della corsa. Abbiamo avuto anche una caduta nella Civetta all'altezza della curva di San Martino, poi c'è il Leocorno che ha preso la testa di questa terza prova. Leocorno, Valdimontone, lo scosso della Contrada della Civetta, poi la Lupa sta provando la Torre. Alla curva di San Martino è la terza, adesso il Leocorno che sta girando in prima posizione. Alle sue spalle c'è il Valdimontone, il Leocorno che gira la curva del Casato, gira il Leocorno e arriva prima al Banderino. Andrea Co che ha detto Tempesta e Volpino. E restando a parlare di palio, ai nostri microfoni i capitani di Valdimontone e Drago hanno fatto il punto sulle rispettive scelte. Il capitano del Valdimontone Stefano Marchetti. Allora capitano, parliamo subito di questa accoppiata del Valdimontone, Vizzichese un cavallo nuovo e arriva poi Antonio Mula. Quindi il Valdimontone sceglie un giovane al suo primo palio. Parliamo proprio di questo. Sì, sono contento di aver fatto questa scelta, Antonio era nei nostri piani e la sorte ci ha assegnato questo soggetto e sono contento di aver potuto montare Antonio. Valdimontone contra la legata anche a The Big, lo sappiamo bene, ad alcuni big poi la sorte vi ha assegnato un cavallo nuovo e quindi la scelta è andata verso un giovane. È normale che sia così, è logico, il cavallo poi si tira dietro il big, Jonathan e Giuseppe hanno avuto opportunità migliori delle nostre, però come ti ho detto è stata l'opportunità di mettere a cavallo Antonio che comunque in tutte le scelte che ho fatto ho sempre fatto scelte personali e mi ha permesso di farne un'altra, di aggiungermene un'altra. Siamo con Jacopo Gotti, capitano della Contrada del Drago, allora capitano parliamo subito di questa accoppiata, arriva Zio Frac, è un cavallo nuovo, uno dei tanti all'interno dell'otto, però poi una monta importante è quella di Giovanni Azzeni. Sì, era un cavallo che a Giovanni piaceva, uno me ne aveva dati pochi, come gli avevo chiesto, questo era uno di quelli, è un cavallo che era piaciuto anche al mio veterinario, sapete io mi fido molto della mia stalla e a quel punto ho detto ci si prova, ci si prova perché poi i treni passano una volta e quando passano bisogna salirci e provarci fino a un fondo. Ecco, tra l'altro Giovanni Azzeni aveva ovviamente anche altre opportunità, essendo un big la scelta quindi del Drago oltre che per il cavallo conferma anche un rapporto diciamo importante con la Contrada. Sì, c'è sempre stato, è sempre stato massimo rispetto negli anni, sia con la vecchia diligenza che ora con me, ci siamo sempre parlati chiari, se c'era possibilità sapeva che il Drago era aperto, dopo l'estrazione, l'estrazione ha segnato un po' ancora di più la possibilità di venire nel Drago e poi una volta è venuto il cavallo che gli piaceva abbiamo concluso. Sena e il Palio fanno scuola in Italia per la tutela delle feste popolari, sentiamo a riguardo Katia Ballacchino, antropologa incaricata dal Ministero della Cultura per aprire un dossier sul Palio e sulla sua valorizzazione. Io sono emozionatissima perché sono appunto, è dal 2019 che rincorro il Palio, quindi è assolutamente il momento clou per me perché io non posso scrivere neanche una parola né fare un lavoro serio senza vedere il Palio ma soprattutto osservare e compartecipare per quello che mi sarà permesso con l'emozione dei senesi. E questo quindi è il momento cruciale, dopodiché passeremo a una fase successiva del lavoro che chiaramente sarà soprattutto di tipo istituzionale con la sovraintendenza di Siena e con il Ministero della Cultura che permetterà poi di scegliere la strada migliore per la tutela se sarà possibile farla. Però devo dire che il Palio, sia quello di luglio che quello di agosto che mi verrà assolutamente presente, saranno la chiave di volta anche per vivere un momento straordinario che è quello del ritorno appunto. Un ritorno che credo sia stato, come dire, riempito, questo vuoto che è stato completamente riempito dalle attività delle contrade che ho seguito il più possibile, l'ho cercato di seguire attraverso le attività di mutuo soccorso, la solidarietà innescata, le attività culturali. Davvero sono stati anni difficili ma allo stesso tempo pieni nel vuoto della pandemia. Con l'aiuto delle istituzioni locali, con gli esperti, ma soprattutto con i contradaioli, con i priori, con i rettori, eccetera, possiamo trovare una strada che permetta anche, perché no, di avviare delle buone pratiche originali, che possano anche dare da stimolo, se tutto va bene, alle guide nazionali legate al patrimonio immateriale e sulle altre feste italiane. Quindi, come sempre, Siena fa scuola e io sono, ripeto, onorata di far parte di questo progetto e di essere la ricercatrice incaricata, perché per me è davvero un orgoglio, un orgoglio immenso. L'eurodeputata di Europa Verde, Olonora Evi, ha presentato al Parlamento europeo un'interrogazione sul minacciato addio da parte della Whirlpool all'Italia. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. La Whirlpool lascia l'Europa. È questo il messaggio che è arrivato nelle scorse settimane dai vertici della multinazionale statunitense produttrice di elettrodomestici. L'eurodeputata di Europa Verde, Olonora Evi, ha presentato per questa ragione un'interrogazione al Parlamento europeo per fare chiarezza e capire quale sia il futuro delle sedi europee del gruppo Whirlpool e con essa quella di Siena. In Italia ci sono oltre 5.000 lavoratori in 6 stabilimenti, uno è quello di Siena, ed è inaccettabile che in questo momento si possano mettere a rischio le sorti dei lavoratori. Anche perché, ed è questo l'oggetto anche della mia interrogazione alla Commissione europea, il gruppo ha beneficiato di fondi, di aiuti, non soltanto da parte dell'Italia, ma anche da parte dell'Europa. E peraltro in questo momento i dati consultivi delle vendite ci parlano di un aumento delle vendite e quindi di un utile guadagni. Quindi non è certo un'azienda in crisi e quindi non c'è alcun motivo per cui mettere in discussione l'occupazione e la produzione nei siti italiani. Per questo deve essere subito definita una strategia industriale autosufficiente a livello europeo. Quello che, ripeto, è accaduto è che soldi pubblici italiani ed europei sono stati dati a multinazionali come Whirlpool a fronte di impegni seri e concreti per mantenere l'occupazione in Italia ed in Europa. Se questo non accade è evidente che c'è un problema e quindi noi dobbiamo con la Commissione europea avere la possibilità di intervenire primo per vederci chiaro e in secondo luogo per creare quell'ambiente e quella capacità di produzione che rimanga in Europa e quindi fornire delle linee guida chiare anche di strategia industriale che oggi evidentemente mancano. Passiamo adesso alla provincia, decime edizione del concorso nazionale letterario Boccaccio rivolto a tutti gli studenti delle classi terze e quarte superiori vede sul podio la San Quirichese Gaia Zaccarini con la novella Messer Covid, signore di pandemia e la giovane moderna. Lorenzo Agnelli. Per la novella Messer Covid, signore di pandemia scritta da Gaia Zaccarini dell'Istituto Poliziano di Montepulciano. Eccola qua. È stata una grande festa all'insegna dei giovani di talento la serata dedicata alla premiazione del concorso nazionale letterario Boccaccio Giovani rivolto agli studenti delle classi terza e quarta superiore di tutta Italia. Il tema di quest'anno era la nobiltà della donna e tra i tre vincitori c'è Gaia Zaccarini, studentessa San Quirichese che ha frequentato la classe quarta C del liceo scientifico Agnolo Poliziano di Montepulciano. La sua è stata una delle migliori novelle scritte in stile boccaccesco e perfettamente contestualizzata nel presente, riportata ai giorni d'oggi, un piccolo capolavoro dal titolo Messer Covid, signore di pandemia e la giovane moderna. L'ispirazione è nata soprattutto dal fatto di voler un po' dimenticare e comunque discostarsi dal brutto periodo della pandemia che tutti abbiamo passato, anche perché penso che per noi giovani è stato ancora più difficile, quindi è stato un po' un modo di sfogarsi, quasi mettere un punto di fine a tutto quel periodo. Il tema centrale era appunto quello della nobiltà della donna che all'interno della mia novella viene rappresentata da Moderna che è una giovane fanciulla e che prende proprio il nome del vaccino che è stato fatto durante il Covid. Infatti l'intenzione era anche quella di riaffermare il valore della scienza che ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia. Quindi ho cercato di coniugare quello che era un tema fondamentale all'interno del Decameron, dato che Boccaccio è il primo a dare dignità alla figura della donna, con quello invece attuale e appena passato della pandemia. Una forte emozione per la giovane studentessa che attraverso questo concorso ha potuto esprimere al meglio il suo talento letterario e la sua creatività fuori dal comune. L'emozione è stata tanta anche perché diciamo che è stato inaspettato, non mi aspettavo di vincere e quindi l'emozione è stata davvero tanta, soprattutto perché la premiazione comunque si è svolta in presenza finalmente dato che l'anno scorso è stato fatto tutto in streaming e nel salone erano presenti soltanto le tre vincitrici. Quindi l'emozione di essere lì tutti insieme e soprattutto di essere tanti giovani è stata tanta e bella. Adesso la cronaca. L'attitante da quattro anni arrestato dai carabinieri di Poggibonzi nella zona del lago Usilia, sul suo conto pendeva una pena definitiva per ricettazione ed altri reati da scontare presso un carcere nazionale. Filippo Tecci. L'attitante da quattro anni arrestato dai carabinieri di Poggibonzi in largo Usilia, sul suo conto, fanno sapere le forze dell'ordine, pendeva una pena definitiva per ricettazione ed altri reati da scontare presso un carcere nazionale. Nel pomeriggio del 29 giugno di quest'anno a Poggibonzi i militari della locale stazione dei carabinieri nell'intensificazione dell'attività di controllo del territorio e degli obiettivi sensibili hanno notato un uomo mai visto in città che se ne stava fermo in auto nei pressi della banca in largo Usilia e che pertanto aveva attirato particolarmente la loro attenzione. Procedendo al controllo hanno appurato che si trattava di un cittadino rumeno che da ben quattro anni si era reso latitante poiché sul suo conto pendeva una pena definitiva per ricettazione ed altri reati da scontare presso un carcere nazionale. Il soggetto è stato quindi immediatamente trasferito alla Casa di Reclusione di Siena dove sconterà quasi due anni di detenzione e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. A San Gimignano arriva il Festival della Creatività Under 35 al Parco della Rocca di Montestaffoli, due giorni tra talk, arte, musica, teatro e poesia. Uno spazio interamente dedicato alla creatività dei giovani under 35 del territorio che per due giorni avranno la possibilità di esprimere la propria arte declinata in ogni sua forma sarà il Parco della Rocca di Montestaffoli a San Gimignano, venerdì 1 e sabato 2 luglio. Il palcoscenico naturale di IN3C, Festival dei Giovani Creativi all'interno del ricco cartellone di eventi estivi organizzato dall'amministrazione comunale. La due giorni tra talk, arte, musica e teatro, poesia inoltre rientra in un più ampio progetto di valorizzazione dei giovani nati in occasione del trentennale UNESCO di San Gimignano. E proprio la tavola rotonda UNESCO Cultura e Partecipazione Giovanile alle ore 18 aprirà la rassegna. A moderare saranno Giulia Lisi e Giulio Guazzini, tra gli ospiti Matteo Rosati, Alessio Re, Alessia Montacchini. Nella giornata inaugurale invece saranno protagonisti le varie arti visive con Michele Bertollini, Sofia Giuntini, Domitilla, Marzuoli e tanti altri ragazzi. Mentre dalle ore 21 in poi musica live con Matteo Banni e Andrea Conforti e ospiti autorizzati. A voto 2 luglio alle ore 18 la tavola rotonda quali passi fare per vivere di cultura, istruzioni per giovani artisti creativi e visionari, moderano Giulia Lisi e Giulio Guazzini. Ospite Alessandro Bianchi, regista e Cinzia Cucini, fondatrice e foto editor di Giostre Edizioni. Passiamo alla Val di Chiara. In occasione del primo giorno di saldi in Toscana, chiusi ripartono le iniziative dei commercianti di chiusi in vetrina. Ha soddisfatto il sindaco Gianluca Sonnini che parla di un evento importante per ritrovare la socialità, il servizio di Simone Gianni. Torna anche quest'anno a chiusi scalo Saldi Rosa Shopping, un'iniziativa dedicata allo shopping sedale fra le vie della stazione che nei giorni del primo e del 2 luglio vede ai negozi aperti fino a tarda sera. Un modo per far di parte del commercio e tutte quelle attività che hanno sofferto per i due anni di pandemia, confermando la sinergia tra l'amministrazione comunale e le attività economiche del paese. Ormai è diventato l'evento dei saldi Rosa Shopping, comunque un evento di riferimento nel settore commercio. Ed è fondamentale che si abbia questa ripartenza, il fatto che anche i commercianti si siano di nuovo riorganizzati per poter dar luogo a questa iniziativa che ormai sono diversi anni che viene portata avanti. E questo dà modo oltretutto di ripopolare le vie di chiusi scalo, dove sono stati fatti nel tempo anche gli investimenti su Piazza Garibaldi. E questo è un elemento importante, ritrovare anche quella socialità, riabituarsi a stare insieme. E quindi ecco, già sono iniziate una serie di appuntamenti in centro storico. e il fatto che anche chiusi scalo si riviva, diciamo così, e quindi i cittadini possono riappropriarsi delle vie, delle strade, è un elemento ovviamente che possiamo salutare con grande soddisfazione. Ci saranno anche delle serate musicali. E quindi, ecco, affrontare questi periodi particolari di uscita dalla pandemia, però anche di questa emergenza umanitaria che stiamo vivendo, tutte le difficoltà che sono connesse, dà la possibilità anche di superare tutte queste difficoltà. Ritrovare la socialità è fuori dubbio un elemento importante per la nostra comunità. Adesso la pagina sportiva, il calcio. Il Sena si allenerà a Quercegrossa per i prossimi dieci anni. E' questo quanto si apprende oggi dall'accordo siglato tra le due società. Filippo Megliattini. Il Siena ha un nuovo quartier generale. Dopo l'ufficializzazione di Guido Paiuca sulla panchina è arrivato un altro annuncio. I bianconeri si alleneranno a Quercegrossa. L'accordo con il gruppo sportivo del posto avrà una durata di dieci anni, a partire dal 1 agosto 2022. La Robur usufruirà dei due campi in erba e terra battuta, oltre ad utilizzare gli spogliatoi, la stanza ad oggi dedicata a ludoteca e i parcheggi esterni. Verrà poi allestita una palestra con alcuni macchinari di ultima generazione. Il settore giovanile invece non si trasferirà e continuerà anche, per la stagione 2022-2023, ad utilizzare l'impianto Bertoni dell'Acqua Calda. Una mossa che dà stabilità al Siena, dato che la mancanza di una struttura di riferimento dove svolgere gli allenamenti è una problematica ricorrente nella storia bianconera. Per quanto riguarda la Rosa, oggi, 30 giugno, scadono molti contratti e l'intenzione della dirigenza sembrerebbe quella di non rinnovare gli accordi. Il lavoro da fare, a partire da domani sul calciomercato, sarà intenso, con un gruppo di giocatori da costruire per mettere Guido Paiuca nella posizione migliore possibile per esprimere il suo calcio. Ed era questa la nostra ultima notizia, adesso vi lascio al nostro lungo palinsesto dedicato alla Passone Paglio. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.